Arriva a full back cross il pick up top di gamma di Fiat Professional BMW, presenta le nuove F750 e 850 GS, Ford invece abbassa il volume della sua Mustang. In casa Fiat Professional nasce full back cross, una versione elaborata top di gamma del pick up del gruppo FCA, pensato non soltanto per chi lo utilizza ai fini lavorativi ma anche per il tempo libero e la guida di tutti i giorni. Lo si potrà vedere e provare nel weekend dell'11-12 novembre grazie ad un porte aperte dedicato. Il prezzo di lancio di soli 27.700 euro permette di acquistarlo in un allestimento completo di tutto, incluso il pack Tecno che comprende radio navigatore, bloccaggio del differenziale posterione e fari Bixenon. Il suo sistema di trazione non teme paragoni con un semplice tasto, è possibile passare alla modalità due ruote motrici, ideale anche per ridurre i consumi, o a quella trazione integrale con un differenziale centrale Torsen per l'utilizzo in off-road. Inoltre full back cross offre a chi lo guida la possibilità di utilizzare le marce ridotte per i percorsi più estremi, è equipaggiato con un motore turbo diesel da 2,4 litri capace di erogare 180 cavalli di potenza e 430 Nm di coppia a 2.500 giri, cambio manuale a 6 marcio, automatico a 5 con di serie le palette al volante. La sua versatilità d'uso non ha limiti, infatti con una massa rimorchiabile di oltre 3 tonnellate e la portata superiore a 1 tonnellata. Full back può persino ospitare una cellula abitativa e diventare un piccolo motorhome, per lui Mopar propone come utile accessorio una chiusura per il cassone in alluminio, avvolgibile e resistente alle intemperie. Sin dal lancio nel 2007 i modelli BMW GS della serie F hanno cercato di unire il concetto di Moto Adventure alle medie cilindrate. GS ancora oggi rappresenta la sintesi di off-road e lunghe distanze, di fatto non soltanto una moto ma la compagna perfetta per scoprire gli angoli più remoti del globo. In questi dieci anni i modelli BMW hanno visto un costante sviluppo verso l'obiettivo della motocicletta definitiva, sempre meno complicata e senza necessità di manutenzione. La nuova F750 GS con la sua altezza ridotta della sella, un'ottima disponibilità di potenze ed eccellenti qualità generali e una moto dall'alto costo beneficio. La F850 GS invece, oltre ad una maggiore potenza e una coppia, presenta caratteristiche di viaggio più marcate accanto ad una capacità off-road di livello maggiore. L'obiettivo primario del progetto era l'incremento della potenza e della coppia con un'attenzione particolare ai consumi. Le modalità di guida Road Rain più ABS SC garantiscono a pieno il piacere di guida e una maggiore sicurezza di serie. I nuovi modelli GS della serie F vengono lanciati con una gamma di opzioni di occupaggiamento unica per la media cilindrata, varie altezze della sella e della parabrezza, nuovo faro anteriore totalmente a LED, optional connectivity con display TFT o e-call. Ford ha trovato un modo per permettere a tutti quelli che compreranno la nuova Mustang di accenderla senza che il sound del suo poderoso motore, infastidisca ai vicini la sera tardi o magari nelle prime ore della mattina. La modalità che permette tutto questo si chiama Good Neighbor ed è stata pensata da Steve Von Forster, un ex ingegnere a capo dello staff di esperti Ford che si occupa di sviluppo prodotto negli Stati Uniti. Alcune vetture sportive offrono già tecnologie di regolazione del sound dello scarico ma la modalità Good Neighbor della nuova Ford Mustang o il Quiet Start sono le prime a consentirne un'effettiva programmazione dei tempi. Il guidatore infatti attraverso un apposito menu può selezionare il sound che desidera, ad esempio in un intervallo di ore che va dalle 8 di sera alle 7 del mattino può scegliere di programmare l'auto con un suono in accensione meno aggressivo. Le modalità Quiet Exhaust e Quiet Start saranno parte della tecnologia di regolazione del sound dello scarico disponibile a bordo della nuova Ford Mustang in grado di regolare automaticamente i decibel del sound dello scarico secondo diverse modalità di guida da normal a sport fino alla modalità track che emette un potente sound di 82 decibel. Grazie per la visione!